Salve a tutti, ben lunedì, buona ripartenza a tutti, visto che oggi c'è stata qualche altra riapertura, lo notate dai miei capelli che sono diventati più corti, visto che sembravo prima avere una parrucca, ma adesso ce l'ho più corti, visto che finalmente sono riuscito ad andare dal barbiere a fare i capelli, quindi è un segnale da una parte positiva, perché a parte che i capelli ci sono, seconda cosa è che c'è un po' di più libertà, ci si può muovere di più. Saluto tutte le persone che comunque ci stanno seguendo, oggi siamo di nuovo con il bravo dottor Gabriele Prinzi, che ovviamente vi avevo promesso che ci sarebbe stata una seconda parte, stavolta legata a delle domande che abbiamo preso, leggeremo delle domande che sono venute dalla volta scorsa ad oggi e sicuramente il dottor Prinzi approfondirà bene queste domande. Ovviamente io cercherò di concentrarmi oggi sul leggere queste domande e cercheremo di darci delle risposte, perché ovviamente il titolo è Helicobacter, alimentazione, gastrite, qual è la verità? Ovviamente questo è un tema che allaccia molte cose, quindi un po' ampio, però siccome le domande erano tutte rivolte su queste cose, allora ovviamente abbiamo cercato di non andare proprio a ruota libera, ma cercare di seguire un percorso. Allora io vi ricordo, prima di passare la linea, la linea, prima di passare la parola. Qui dal Barbera tutto va bene? Le squadre stanno uscendo sul campo dagli spogliatoi. Sembriamo, queste dirette sembrano delle dirette tipo politiche, ma sono delle chiacchierate in fondo, vi ricordo, salutiamo anche Enrico Bevacqua che ti saluta. Ciao Enrico, grazie per avermi citato l'altro giorno, tu e Francesco mi avete fatto sentire più importante di quello che penso di essere, perché mostri sacri della medicina funzionale come te, che sanno io chi sono e mi citano, mi fanno sentire professionalmente molto apprezzato e ti ringrazio, sia per le cose che hai detto che per le parole che hai avuto nei miei confronti. Salutiamo la brava dottoressa Livema che ci sta seguendo, ovviamente, e comunque ringrazio veramente le tante persone che ci seguono, ma con giusto una parola, queste dirette sono fatte per informativa, sono fatte a scopo di beneficenza, non c'è nessuno scopo di lucro, perché uno può pensare, il dottor Garitano invita questo, questo, quell'altro, quell'altro professionista, no, in queste dirette ci sono solo professionisti che sanno fare il proprio mestiere, ci tenevo a precisarlo perché non c'è assolutamente nessun interesse, anzi io con tanta difficoltà le organizzo, non è facile organizzare, perché sembra che uno dice, va bene, alle 18.30 vi collegate tutti quanti e facciamo la diretta. Ieri per esempio mi è saltato il corso della tiroide, che ripeterò domenica, perché Zoom gli era dati numeri per un aggiornamento non fatto, è saltato purtroppo il collegamento e questo può capitare e l'ho dovuto richiamare 50 persone, anzi la mia segretaria è stata, mi ha benedetto, diciamo per questa situazione qua, che ha dovuto richiamare 50 persone per rinviarle a domenica prossima, quindi diciamo che purtroppo, quindi ancora chi è rimasto fuori che magari non si è potuto iscrivere, ancora c'è a tempo una settimana per potersi iscrivere, giusto questa cosa qua, giusto ridico che mercoledì ci sarà il Giorgio Terziani con l'ospite Walter Nudo, che abbiamo coinvolto in questa diretta di mercoledì, poi ci sarà Guidoni e ci sarà la Giacona sabato, quindi non vi ha detto, diciamo per questa situazione non c'è mai qua che ha dovuto richiamare, quindi adesso c'è un ritorno un po' di… allora Gabriele, allora io ti do prima la parola, vuoi fare tu un saluto prima e poi ti leggo le domande che sono venute fuori. A te la parola. Quindi intanto grazie per avere accolto la richiesta da parte di me e dei tuoi utenti di tornare per rispondere alle domande che abbiamo ricevuto, perché diciamo così a occhi e croce rimanevano sul campo qualche cosa come 240 o 250 domande, per fortuna alcune riconducibili più o meno, cioè era possibile metterli insieme perché era più o meno la stessa domanda, quindi grazie a nome degli utenti a cui voglio confermare una cosa che ha detto il dottore Caritano e smentirne un'altra. Confermare che queste sono delle… portiamo informazioni gratuitamente alle persone, perché per il lavoro che facciamo noi, noi veniamo chiamati per fare dei webinar, insomma dei corsi specifici per medici, però il fatto di mettersi a disposizione, usando termini semplici come ha fatto Enrico Bevacqua e come fa Francesco Garritano ogni volta, è un nostro modo di andare incontro alla popolazione rispetto alle domande a cui nessuno ti dà una risposta, perché quello che dico sempre nei miei post è, indipendentemente da qual è la mia laurea e il lavoro che faccio, l'educazione, il buongiorno e la risposta e l'attenzione, sono qualità umane, là non c'entra niente la professione, per cui tu che mi stai ascoltando, questa cosa può essere portatela dietro, perché se trovi un livello di comunicazione, di gentilezza ed educazione minore di questo, sai che cosa fare, cioè esci fuori da quella stanza e cambia il luogo dove stai. La seconda, io devo smentire il dottore Garritano, il quale dice che queste sono delle trasmissioni gratuite, in quanto io l'ho ringraziato nella sua ospitalità, gli ho detto appena ci vediamo come minimo, ha grigliato un bicchiere di vino, mi devi permettere di offrirtelo. Tra l'altro io e lui che abbiamo una differenza di statura di mezzo metro, cioè lui è mezzo metro più alto di me, non abbiamo mai fatto un selfie, così come collega Bevacqua, che sono mesi che travestito da Ironman, spero di coinvolgere almeno in un selfie funzionale, perché ci sono, io cito sempre il fatto che esiste un piccolo esercito di esercenti della professione sanitaria, sono farmacisti, medici, psicoterapeuti, fisioterapisti, ci sono osteopati, ci sono dei coach, i quali ritengono che sia stata fraintesa sia la visione della medicina attuale, sia la visione della strategia terapeutica, sono giovani, sono belli, gli piacciono i selfie, sono comunicativi e continuano ogni giorno a studiare. Io a quasi 50 anni non ho smesso di studiare, chi mi chiede della vitamina C, su cui io vi consiglio di andare nella pagina del dottor Ranalli, io dico guarda io sono ancora indietro, sono arrivato alla B, me le studio una per una, mi innamoro una per una, in questo momento il mio amore anche per il collegamento dell'omocisteina e con le vitamine del gruppo B, quindi prima di arrivare alla C ci vorranno dei mesi, quindi vi prego non chiedetemi se la vitamina C va bene, io vi chiedo di fino a che si tratta di B e di D sorrispondere e ho 50 anni quasi, chi invece continua ad aggiornarsi su libri del 1918 o a vedere gli esseri umani e la medicina con nozioni che non esistono più nel 2020, dove non viene integrato il microbiota e non viene vista la persona nel suo insieme, ecco queste persone sono obbligate dal ministero ad andarsi, ad andarsi a aggiornarsi costantemente e chi queste cose le vive e le fa lo vedete ogni giorno da quello che scriviamo, quindi sappiate fare una valutazione di chi vi può dare una risposta sincera rispetto alle sciocchezze o ai miti o ai dogmi che fino ad ora vi sono stati imposti. Allora, Gabriele, cominciamo con la prima domanda perché vedo che le domande arrivano ma molte non le potrò leggere, magari Gabriele in privato risponderà a qualcuna di queste che arrivano oggi, però ne abbiamo da leggere tante di quelle che ci sono arrivate prima. E quelle precedenti? Ovviamente, allora cominciamo a Gabriele, molti chiedono quelle domande che abbiamo raccolto, la differenza tra la gastrite e il reflusso, perché molte persone ancora confondono queste due cose, c'ho la gastrite e c'ho anche il reflusso, anzi te ne dico un'altra che in una confluenza di oggi, un gastroenterologo, una signora fatta il gastroenterologo, dice ha una gastrite e si sorprendeva come mai non avesse il reflusso, gliel'ha chiesto tante di quelle volte, ma signora ma come mai non hai il reflusso, come mai non hai il reflusso, quindi anche a livello di professionisti, secondo me oltre a fare oggi chiarezza su queste due cose c'è un po' di confusione, ce lo spieghi un attimo a 500-400 persone, qual è la differenza tra la gastrite, l'ite e il reflusso? Allora, la gastrite, cioè tutti i termini l'ite in medicina fanno riferimento a un'infiammazione, per infiammazione noi intendiamo una reazione locale del sistema immunitario che è lo stesso sistema immunitario che ci difende rispetto ai nemici ed è lo stesso sistema immunitario che ripara le ferrite, il quale si trova impegnato, qualunque sia il motivo, in una infiammazione, quindi gastrite come esofagite presuppongono l'infiammazione, ovvero una lesione dell'organo tale da richiamare un certo numero, una certa quantità di cellule del sistema immunitario. Per gastrite si intende quindi un'infiammazione della mucosa dello stomaco, ci sono delle gastriti localizzate e ci sono delle gastriti generalizzate per il quale motivo sono stati inventati i gastroprotettori più di 40 anni fa, questo perché nelle gastriti più avanzate, quelle in cui per esempio si forma un'ulcera che è un cratere che buca dall'interno la mucosa dello stomaco e porta a contatto di parti delicate e non protette dello stomaco la quantità di acido che noi normalmente abbiamo nello stomaco. Tra l'altro lo stomaco è un organo che è stato progettato da madre natura milioni di anni fa, se non di più, milioni di anni fa per resistere a contatto con l'acido da quando moriamo, da quando nasciamo a quando moriamo. Il pericolo è che le ulcere possono andare a toccare la grossa quantità di vasi sanguigni che si trovano nello stomaco e creare quelle che sono le emorragie intragastriche o intraddominali. Nei casi più brutti, noi chirurghi addominali d'urgenza ne sappiamo qualche cosa, il cratere può arrivare al punto da perforare l'intera parete, ma tutto parte da una infiammazione. Quindi in questo caso per gastrite si intende una infiammazione locale o generalizzata di una parte dello stomaco. Cos'è il reflusso invece? Il reflusso è il passaggio patologico di quello che è il contenuto dello stomaco, poi ti spiego perché patologico, dallo stomaco verso l'alto. Noi abbiamo una piccola porzione del nostro sistema digerente di circa 40 centimetri che porta il cibo dalla bocca fino allo stomaco, più o meno qua. Questo tubo, l'esofago, è un tubo che si muove, che ha una peristalsio, porta il cibo dalla bocca verso lo stomaco, solo se all'interno dell'esofago c'è del materiale, quindi l'esofago lo capisce e lo spinge verso il basso. Superando una porta, io alla palermitana dico è una porta blindata, che divide lo stomaco dall'esofago. Lo stomaco che è capace di stare a contatto per ore, per anni con l'acido, e l'esofago che invece non è capace, non ha la struttura per resistere all'acido. Quindi ogni volta che c'è passaggio di materiale gastrico dallo stomaco verso l'altro, si parla di reflusso. Il reflusso viene anche chiamato reflusso gastroesofageo, possiamo avere anche un reflusso gastroesofago orale e in alcuni pazienti, alcuni pazienti sono capaci di percepire il reflusso fino ad avere dei problemi delle orecchie, perché ricordiamoci che il tubo, la parte interna, scusatevi se uso questo termine, la parte interna dell'orecchio finisce nella gola, tanto che l'otorino, la ringoiatra era il vecchio medico orecchio, naso e gola, perché nella gola arriva anche il naso. Quindi questo è quello che può succedere nel reflusso, è la differenza tra gastrite e reflusso. Una piccola parentesi che so che brucerà un pezzettino delle nostre domande successive, siccome noi non usciamo in un mondo sporco, il nostro pianeta è sporco se volete, è ricoperto, qualunque superficie è ricoperta da microorganismi, anche noi siamo totalmente ricoperti dai microorganismi, non c'è angolo e infratto del corpo che non lo sia coperto, gli studi dimostrano che incominciamo ad essere coperti da microorganismi, cominciamo a berli tra le 8 e le 12 settimane di gestazione dentro l'utero. E neanche il liquido ammniotico, neanche l'utero della mamma è una zona protetta e sterile, è piena di batteri. Quindi noi che cosa facciamo? Dovremmo nascere ricoperti da batteri, perché poi i parti cesari purtroppo, quando ci sono parti per necessità, questo non lo permettono, ma siamo totalmente ricoperti da batteri e il nostro sistema immunitario, per capire diciamo come comportarsi nel mondo, ma schiera sempre un po' di globuli bianchi, un po' del suo sistema immunitario su tutte le superfici che sono a contatto col mondo e con i batteri. La nostra superficie di maggiore contatto con il mondo non è la pelle, perché la arriviamo tra due metri e due metri e mezzo quadrati, però dalla bocca all'ano il tubo digerente aperto al libro, in alcuni testi viene misurato, ci sarà qualcuno che è andato là col centimetro, non lo so, ma in 250 metri quadrati. Per questo i testi, percentuale più, percentuale meno, dicono che quando i neonati nascono, tra il 75 e l'80% del loro sistema immunitario è a contatto con questa ampia superficie. I medici, il gota dei medici a livello mondiale, il gota dei gastroenterologi e degli anatomopatologi riconoscono quindi che è una certa quantità di ite, gastrite come colite, una certa quantità e lo misurano col numero dei globuli bianchi quando vanno a fare una biopsia. Un certo grado di gastrite e colite è fisiologico e ha a che fare col fatto che noi viviamo in un mondo sporco e a costante contatto con i batteri e non c'è, l'ha detto l'altra volta Livia Emma, io quando lei parla mi vengono gli occhi a cuoricino, devo immaginare perché, ma che si sta studiando il fatto che ci siano batteri persino nel cervello, che ci sia un microbiota cerebrale, fisiologico, non è un'infezione. Ci sia pure lì una certa quota di batteri che è in qualche maniera ha fatto casuzza e che ci dà qualche vantaggio che noi ancora non capiamo. Purtroppo ti do questa conferma che noi siamo, noi gli ospiti, si pensa che noi siamo gli ospiti visto che i batteri, qualcuno nominava prima che cos'è il microbiota, è l'insieme di batteri, ma non solo batteri, di virus, che addirittura sono più numerosi dei batteri. E le candide, Francesco, le candide che ci siamo scordati, ci sono meravigliosi esami del microbiota che vedono solo i batteri e non cercano le candide. Certo, nel senso che qualcuno leggeva qualche domanda che stava scorrendo per quanto riguarda il microbiota. Quindi spiegata la differenza tra le due, quali sintomi più comuni può dare la gastrite e quali sintomi può dare più comunemente il reflusso? Come ce ne accorgiamo? Qual è il gold standard, se vogliamo dire, se c'è un gold standard per la gastrite? Allora, diciamo che molto spesso ora gastriti pure che hanno bisogno del pronto soccorso ne vediamo meno spesso. Se noi consideriamo da un punto di vista spannometrico quello che è il primo sintomo considerato dagli italiani come gastrite è la percezione del bruciore in questa zona qui. Alla fine dell'addome è più o meno retroposto rispetto all'osso del torace, l'osso centrale. È quello che i palermitani chiamano avuccare l'arma, la bocca dell'anima, ma che potremmo anche dal punto di vista medico chiamare l'epigastrio e la parte più bassa del torace. Il bruciore in questa zona, amico mio, amica mia che mi stai sentendo, è chiaro che dopo 40 anni di carosello tu l'hai confuso con gastrite, ma in effetti è il primo sintomo del reflusso, perché l'arrivo di una quantità di acido su un organo che dall'acido non è protetto dà la sensazione della cosiddetta pirosi retrosternale. Questa pirosi è bastarda, perché non è detto che sia un acido che dura poco, dura qualche minuto, e chiunque abbia fatto una grossa libagione, una bella mangiata o una giornata a ruste e mancia, come prima del covid erano il 25 aprile e il primo maggio in Sicilia, lo sa che può capitare che mangi così tanto, per cui dell'acido può uscire fuori e si chiama rigurcito. Finché è una volta ogni tanto, cioè finché è episodico, al punto tale che non ha un peso sulla tua qualità di vita ed è prevedibile, chi se ne frega. Quando la frequenza di questo sintomo diventa elevata, ovvero quando questo sintomo poi sale verso l'alto, per cui l'acidità, il bruciore proprio specificatamente, dalla bocca dello stomaco sale fino a raggiungere la gola, fino a essere sentito nel naso, in bocca o fino a dare fastidio nelle orecchie, fino a dare polmoniti, perché ci sono delle polmoniti da reflusso acido e allora a quel punto, quando questa cosa accade frequentemente, i numeri parlano di almeno due o tre episodi alla settimana, la qualità di vita di queste persone è seriamente compromessa. Il primo sospetto ovviamente è la gastrite, cioè che ci sia un'infiammazione dello stomaco e quando lo stomaco è infiammato, è chiaro che il funzionamento dello stomaco non è perfetto se noi guardiamo solo allo stomaco. Lo stomaco è una macina, cioè deve frantumare il cibo perché lo deve rendere a una misura tale che passa in un piccolo tubo ed è pronto per essere completamente digerito e poi assorbito. Ma stomaco, duodeno, esofago, colecisti, fegato, per quanto siano organi separati, comunicano, c'è una comunicazione bestiale fra di loro, sia a livello endocrino, cioè loro si scambiano comunicazione a livello ormonale, come si scambiano comunicazioni a livello dei neuroni, a livello nervoso. Quindi non è mai un problema di stomaco, noi vediamo lo stomaco, non è mai solo un problema di stomaco. Ci sono poi, io non so se ti sto bruciando la domanda successiva, questi sono i cosiddetti sintomi tipici da reflusso e devono sempre attirare l'attenzione di uno specialista perché se il reflusso va avanti da molto tempo c'è il pericolo, c'è la possibilità che questo reflusso possa essere il punto di partenza o di una malattia dello stomaco e del duodeno, come le uccere, come potrebbe anche essere un punto di partenza di un'infiammazione tale dell'esofago da portare a conseguenze brutte. Una piccola quantità di quei pazienti che hanno reflusso possono arrivare ad avere così tanto reflusso che l'esofago dice, ma io qua non so come comportarmi e incomincia a fare un cambiamento, le cellule dell'esofago si trasformano in cellule dell'intestino o in cellule dello stomaco, si chiama metaplasia. La metaplasia non è un tumore, è una reazione del tessuto che tentandosi di proteggere acquista le caratteristiche di altri pezzettini di intestino, di altri pezzi del sistema digerente che sono capaci di resistere all'acido. producendo magari muco, il famoso muco che magari viene spesso riscontrato. No, purtroppo no, il muco è un'altra cosa, è un'irritazione dell'esofago da reflusso biliare, ma l'acido, perché poi ci sono qua, noi entriamo nella diagnostica dell'esofago, là c'è veramente da saper fare la distinzione. Però tu immaginati che l'esofago di Barrett, che è considerata una precancerosi, ovvero una di quelle condizioni che aumenta enormemente la frequenza di tumore dell'esofago, inizia da una metaplasia intestinale, così come ci sono anche nello stomaco, nella parte finale dello stomaco, quello che si chiama antrogastrico, se tu immagini un imbuto, la parte finale dello stomaco è la parte finale dell'imbuto, quello è l'antrogastrico. Quando c'è un reflusso, perché un reflusso biliare ci può stare ogni tanto. Quando quel reflusso biliare è costante, io me ne accorgo perché guardando la biopsia nell'endoscopia c'è scritto metaplasia intestinale, cioè lo stomaco cambia le sue qualità in un certo punto, perché arrivando la bile e lo stomaco non è abituato a gestire la bile, ecco che acquisisce quelle qualità dell'intestino che invece con la bile ha a che fare, che la bile riesce a gestirla. Questi piccoli segni, queste piccole finezze che magari io ho avuto a che fare per quasi vent'anni con le sale operatorie, me li sono andati a guardare, ma sono delle finezze che purtroppo a volte non vengono visti. Tutti i pazienti vengono inquadrati come gastrite o come reflusso, senza andarsi a chiedere qual è la qualità di questa gastrite e qual è la qualità di questo reflusso. E mi fermo perché non voglio bruciarti la risposta successiva. Vi dico solo una cosa, da chirurgo d'urgenza, la bile è un emozionante dei grassi, è un irritante delle mucose. Se la bile durante un intervento chirurgico finisce sul peritoneo, peritoneo peritonite, può dare una peritonite di tipo chimico che si chiama cole peritoneo. Quindi se può fare del male al peritoneo, quando risale costantemente, passa stomaco, esofago e bocca, può fare delle lesioni anche lì, sono piccole, sono fastidiose, non è la botta d'acido, è quello che viene definito reflusso atipico. Ma il reflusso acido non è l'unico tipo di reflusso. I reflussi sono tre. Ecco, cominciamo la domanda, visto che ti sei chiamato il reflusso biliare, come distinguiamo un reflusso biliare da un reflusso normale? Visto che abbiamo accennato del reflusso biliare, vediamo i sintomi. Il reflusso acido e il reflusso biliare intanto hanno delle caratteristiche in comune. È difficile, trovare qualcuno con reflusso che non abbia, dopo aver mangiato, un gonfiore della pancia. Caro amico che tu dici che le lenticchie ti fanno fermentare, mi dicono, ah dottore, ma sono le lenticchie perché mi fanno fermentare. Hai ragione, ma se dopo cinque minuti che l'hai mangiato ti gonfia la pancia e quelle lenticchie sono ancora nello stomaco, non sono state neanche digerite. Se la tua fermentazione avviene due, tre ore, quattro ore dopo che hai mangiato, lo capisco. Ma quando tu mangi e dentro cinque minuti percepisci un gonfiore della pancia e alcuni percepiscono un aumento della frequenza cardiaca, è una difficoltà respiratoria. Questo, e mi ricollego all'amico, scusami ti chiamo amico, è collega Enrico Bevacqua, è un segno di attivazione dell'istamina. L'istamina è una molecola che noi produciamo naturalmente, ma che ha a che fare con i sistemi di allarme, al di là dell'istamina che può essere prodotta dagli squilibri batterici nell'intestino. Perché se quell'istamina si attiva entro cinque barra dieci minuti da quando tu hai mangiato, Francesco, dovremmo forse più correttamente parlare di infiammazione da cibo. Le migliori cose che tu mangi, che ti sembra normale, che tu hai mangiato da tempo, che ne sono quarant'anni che le mangi, che ti ha mangiato tuo nonno nel mondo di oggi, con la necessità di trasformazione industriale e di nutrire un mondo che è diventato ingordo e quindi trasformandolo industrialmente con le schifezze chimiche che ci possono essere, il tuo corpo ti può anche dire che non riesce a sopportarle ogni giorno, a colazione, pranzo e cena. Cioè se chi ha una sensibilità al glutine non celiaca e si mangia, a colazione tre biscotti, a metà mattina quattro cracker, a pranzo, no dottore ho mangiato soltanto 50 grammi di pasta, però era integrale, poi di pomeriggio si mangia una fetta biscottata con un velo di miele perché se va oltre il velo poi diventa brutto e a cena, io ho mangiato solo 30-40 grammi di pane, ma hai attivato per cinque volte nella giornata, cinque volte, un meccanismo immunitario che se ne frega della quantità, ma che ti sta tentando di dire amico mio, facci calmo, quando entro 5-10 minuti gonfia la pancia, quindi non è che è meteorismo perché queste parole che ci hanno passato anni e anni e anni di pubblicità dove noi italiani, i miei genitori, che ne so, i tuoi, tutto quello che hanno saputo della salute l'hanno imparato da Carosello e da Superquark, giusto? Poi è arrivato Calabrese, non ne parliamo, io lo adoro Calabrese, quando parla lui mi sento un dio, io quando parla lui ho detto vabbè, ho capito tutto, ciao collega se mi stai sentendo, ti voglio bene e ti stimo, ma non credo nelle chilocalorie, perché se fosse funzione delle chilocalorie non si potrebbe spiegare che chi ha un problema con il nichel solfato mangia 30 grammi di questo, 40 grammi di quello e in un giorno prende un chilo, non è spiegabile, fatevi questo conto amici a casa, è vero che esistevano le chilocalorie, sono concetti degli inizi del novecento, ma nel momento in cui è stato scoperto che c'è il microbiota, il microbiota decide se quello che tu stai mangiando, quei 50 grammi di pasta, lo stai assorbendo tutto e quindi sono 180-200 calorie oppure non lo stai assorbendo. E su questo Enrico beva acqua sabato ci ha allietato con questo discorso dei firmicutes, dei bacteroidetes eccetera eccetera sul discorso del peso, quindi abbiamo capito che, io mi riallaccio a questa tua domanda per fare un rafforzativo, noi col gruppo di medicina dei segnali diciamo che una caloria è uguale a un'altra caloria dal punto di vista termodinamico, però nel momento che noi non siamo delle bombe calorimetriche, cioè nel senso che noi in un altro cibo non è che apriamo una fornace e mettiamo il cibo all'interno e chiudiamo la fornace e il cibo brucia, come succede nelle macchine calorimetriche, ma il cibo quando lo introduciamo in bocca scende come diceva Gabriele, attraverso l'esofoca, arriva lo stomaco, arriva l'intestino, va a nutrire il microbiota e bla 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 e quindi fa dei percorsi, attiva degli ormoni, attiva dei segnali, ecco perché medicina dei segnali, perché tutti mi chiedete perché è questa medicina dei segnali, non sono altro che il nostro cibo, perché tutto segnali, segnali che poi arrivano all'ipotalamo, al nostro cervello eccetera eccetera, quindi vedete come si fa complesso il discorso delle calorie che ormai chi ragiona, le calorie devono andare a morire, non a morire i professori che ragionano, devono andare a morire le calorie perché effettivamente non hanno più senso oggi al giorno d'oggi parlare di questo, ma ci sono Io su questo permettimi 10 secondi di lanciare un messaggio, lo parlo con la mano sul cuore a tutti i colleghi, biologi, nutrizionisti e dietisti che siete stati sobbillati dall'idea delle chilocalorie, vi prego convertitevi, vi prego studiate, andate a studiare che su un paziente diabetico, io sono sicuro che nessuno è così arretrato ad andare a fare una dieta chilocalorica, perché dal 1981 il dottor Jenkins con indice glicemico, carico glicemico e poi con gli studi sul carico insulinico hanno dimostrato un'altra cosa, per cui una mela, 100 grammi di mela, dico una sciocchezza, sono 250 chilocalorie e io domando, sì, ma 250 chilocalorie in inverno e in estate, di giorno o di notte, nell'anziano o nel bambino, nella donna maestruata o nella novantenne che ha la sarcopenia. Gabriele, ci si dimentica che esiste una cronobiologia, no? Il premio Nobel, ragazzi, colleghi, è stato preso un premio Nobel sulla cronobiologia, cioè vi prego convertitevi, rendetevi conto che forse su uno sportivo può avere senso il discorso delle chilocalorie, ma il 90% dei vostri pazienti è gente normale, che sì, vuole mangiare la pizza il sabato sera, ok, sì, vuole mangiare la pasta perché non ci può rinunciare, ma sai com'è, le gluteomorfine ci rendono dipendenti, per cui lo capisco, ma vi prego, non mi date il latte parzialmente scremato perché è un atto ostile nei confronti dell'indice glicemico perché il latte è parzialmente scremato, perché oramai è su tutte le diete prestampate, è ad alto indice glicemico proprio perché non ha grassi. Ma io te ne dico un altro. Non sono i grassi che fanno male, non sono i grassi che fanno male, colleghi, vi prego, vi prego, fatemi felice per un anno, solo per un anno, fino a dicembre 2020, lo togliete il latte è scremato dalla colazione. Scremato? Infatti io dico parzialmente scremato, no? Perché, cioè, capisci, allora sei figo. Ah, ma io sono andato dal dottore Garritano, ma sai che mi ha fatto cosa? Mi ha dato il latte scremato, mi ha dato il latte scremato, mi ha dato il latte scremato, allora è uno, chi? Pampine. Hai ragione. Io per capire questa cosa qui, dico, sembra una cosa, il latte e la mucca l'ha fatto intero, poi ovviamente intero significa che ha tutta la componente grassa, e quando noi beviamo il latte scremato, a parte siamo l'unica specie che dopo lo svezzamento beviamo il latte di un'altra specie, quindi ci sarebbe tutta un'altra, però non andiamo troppo oltre, ma per far capire che quando dico latte scremato, io dico state bevendo acqua e zucchero, perché praticamente tolto il grasso, è rimasto il lattosio, è rimasto lo zucchero del latte, e quindi veramente è pazzesco, Enrico ci dice, per non parlare di quello senza lattosio, zucchero puro. effettivamente, ecco Enrico, visto che facevo finta che parliamo in tre oggi, effettivamente siamo in un disastro puro, siamo allo sbando come notizia. No, 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 non è uno sbando, io penso che c'è, che chiunque sia passato dall'università e abbia dedicato la sua vita ai suoi pazienti, crede che quello che sta facendo sia il meglio che possa fare, ovvero che le informazioni passate dall'università sono le migliori informazioni che possono essere arrivate. Ti giuro Francesco, lo giuro anche a voi colleghi nutrizionisti, dietisti, perché vi stimo tutti, vi assicuro che c'è un mondo enorme, c'è un mondo enorme dove le chilocalorie possono avere il loro ruolo, io non dico di non voglio essere dogmatico, ma se vi andate a studiare the second meal effect, l'effetto del secondo pasto, nel momento in cui i batteri che vivono di fibre, ovvero di zuccheri che noi non riusciamo a digerire, perché loro campano così e tramite questo producono delle sostanze che sono importanti per noi, ma quando i batteri sentono che tu hai mangiato il croissant, dove se c'è un po' di crusca è aggiunta, altro che croissant integrali, ci sono qua reportage proprio dello schifo che c'è in quello che viene venduto e praticamente tu ti prendi cappuccino e cornetto o cappuccino e fetta biscottata, però mi racconto con un velo di marmellata, i batteri dicono ma per me che c'è? Cambiano l'assetto, si comunicano fra di loro e dicono all'organismo oh la prossima cosa che arriva, suppala tutta, prendila tutta perché io sento che sono affamato, è il motivo per cui in medicina di segnale il buon Luca Speciani, amico mio e collega, ti saluto, è tutto il gruppo di medicina di segnale, ci ricorda colazione da re, pranzo da principe e cena da pompe. perché la colazione da principe? Perché poi i batteri sono sazi e non rompono i cappacici e poi ti sostengono e ti aiutano, ma se tu fai una vita di popò come la nostra, perché a volte si ci alza alle 6 del mattino, si prende l'ero alle 7, non si fa colazione, me ne rendo conto, io sono il primo che dico non sono perfetto, sono il primo, io almeno lo ammetto rispetto ad altri che si coprono gli occhi con gli occhiali blue blockers e poi se la prendono con i bambini degli altri, dico io almeno lo ammetto, ma se noi consideriamo come dare un segnale al corpo, più mangi, più perdi peso, è paradossale ed è il contrario di quello che ci hanno insegnato con le chilocalorie dove ci hanno detto mangia di meno e fai più moto, ma se io mangio di meno il mio corpo che è stato forgiato nella povertà, nella tundra, nella savana dove abbiamo vissuto per milioni di anni, nel momento in cui c'è una carenza il mio corpo reagisce perfettamente, perfettamente ed entra in riserva energetica per cui invece di sciupare 800 colori al giorno ne sciupa 200, quello che noi non possiamo fare, perché non siamo adatta, perché noi sono 40 anni, 50 anni che viviamo nella ricchezza, il nostro sistema non sa gestire la ricchezza, è l'insulina e poi l'ago della bilancia tra normalità e infiammazione. Sì, io ti volevo giusto dire, rafforzare un pochino questo concetto a chi ci sta seguendo, che siete veramente tanti, il problema è che oggi si deve parlare di altri ormoni, no? Prima parlavamo di molecole segnali, se Friedman nel 94, ve le dico una, scoprì la leptina, poi a un certo punto questa leptina fu lasciata un po' andare, ma gli studi sulla leptina sono importanti, perché la leptina è l'ormone più potente che esce dagli adipociti e va sull'ipotalamo e stimola tutto il sistema, è tiroide, gonadi, muscoli, stimola tutto. Quindi il problema va oltre, però Gabriele, ritorniamo alle nostre domande, sennò divaghiamo su questo argomento di peso e di calorie. Allora, questa domanda è stata selezionata, ho gastrite d'ernia iatale, ho provato a smettere di prendere il gastroprotettore, ma dopo due giorni ho rischiato di andare al pronto soccorso, ho dovuto prendere per due giorni la tripla dose per calmare il dolore, io so che mi devo fermare e subito, come posso fare? Questa è stata fatta, questa domanda. Esiste in farmacologia, nella stragrande maggioranza dei farmaci, un effetto che si chiama effetto rebound, l'effetto rebound possiamo tradurlo grossolanamente con effetto boomerang, quello di cui lo sa tutta la popolazione, da Siracusa fino a Vipiteno, è con gli psicofarmaci, nessuno psicofarmaco può essere tolto di botto perché nel momento in cui lo togli di botto stai malissimo, hai tutti gli effetti collaterali. La stessa cosa la si ha nel caso del gastroprotettore, il gastroprotettore dovremmo noi chiamarlo correttamente inibitore di pompa protonica. L'inibitore di pompa protonica è una molecola che si lega a queste cosiddette pompe protoniche delle cellule gastriche e si regano in maniera irreversibile, cioè finché la cellula, quella cellula è viva, i suoi recettori sono bloccati. Le cellule dello stomaco, come anche quelle del duodeno, la prima parte del sistema digestivo sono delle cellule che vengono riciclate con altissima frequenza, si dice in termini tecnici ad alto turnover. Questo perché essendo per esempio stomaco e duodeno sottoposti a contatto costante con l'acido o con la bile, per evitare che si possano formare delle lesioni, queste cellule hanno una vita media che secondo te i testi va dai 2 ai 5 giorni. Ecco che cosa succede? Se io prendo l'inibitore di pompa protonica e lo prendo non per un giorno o per settimane, ma per anni, l'assenza di acido nello stomaco viene comunicata al cervello, perché il cervello ha tutta una serie di sensori e quando sente che dallo stomaco viene un segnale diverso dall'acido, dice al suo messaggero la gastrina, o vagli a dire allo stomaco di produrre acido. La gastrina è ovviamente misurabile nel sangue, ma in questo momento chi se ne frega. A forza di prendere il gastroprotettore, il segnale cervello, gastrina, stomaco aumenta. Ed ecco che io che sono stato per mesi, per anni, bello tranquillo, con il gastroprotettore che spegneva l'acidità gastrica, togliendo il gastroprotettore di botto, entro 2-5 giorni ecco che arriva, lo dico alla palermitana, la botta d'acido. Vabbè che lo si capisce anche a vipiteno la botta d'acido. Quando arriva la botta d'acido, la botta d'acido non è legata a una gastrite, è legata a un reflusso acido molto forte e persistente che colpisce l'esofago. Ovviamente, tu che cosa pensi? Mi prendo il gastroprotettore? Mi prendo, non voglio fare nomi, l'adsorbente dell'acido? Mi piglio un chilo di bicarbonato? Bello! Ma non è nello stomaco che tu devi spegnere l'acido, tu devi togliere l'acido dall'esofago con una doppia funzione. Quello di spazzino, quindi devi usare qualche cosa di viscoso che pulisce via l'acido dall'esofago oppure devi trovare qualcuno, e siamo tanti in Italia, che ti sappia portare con delicatezza a sospendere il gastroprotettore senza strappi al motore, come diceva Battisti. Ok, Gabriele, io ti faccio un'altra domanda, visto che non abbiamo risposto a una domanda. Sul reflusso biliale, prima hai detto che c'è questo discorso, che in fase tua di accertamento di gastroscopia... Sì, i sintomi. Ok, i sintomi. Cioè, prima io ti... Erroneamente ho detto una cosa del muco, no? Della formazione di muco, e tu mi hai corretto. Allora, ci puoi dire meglio il discorso di... Se andate su Google e cercate un'immagine anatomica dell'esofago, troverete che l'esofago in tre punti ha delle zone di restrizione. Una è, per esempio, nella zona in cui l'arco della orta preme l'esofago da un lato, lo impronta. Un altro è all'altezza della tiroide, e un altro è dove ci sono i bronchi, dove partono i bronchi che improntano l'esofago. Quindi ci sono tre punti dove, posso dire, delle strettoie, come quando ci sono lavori in corso su una strada, ci sono delle strettoie. Se c'è un reflusso diverso dall'acido, perché l'acido è liquido, quindi riscende giù, ma diciamo biliare, che può residuare in questi due o tre punti, ecco che il paziente, piuttosto che sentire la botta d'acido o il bruciore, sente altre cose. Classicamente, e cito a memoria da quello che è la cosiddetta gastrite disfunzionale o la dispepsia disfunzionale o l'esofagite disfunzionale. Il peso o il pugno alla bocca dello stomaco. Questo pugno, questo peso viene percepito dal paziente come qualcosa che va dall'esterno verso l'interno, o dall'interno verso l'esterno, o dalla pancia verso sopra. Non bruciore, peso, fastidio e cronico è proprio una, come se qualcuno stesse premendo. Altre sensazioni che si possono avere sono sensazioni di fastidio, ma non bruciore, perché se io ho un reflusso, e c'è gente che lo riesce a sentire perfettamente, ma un reflusso non è acido, il dottore dice io sento che mi risale qualche cosa, ma non è acido. L'altra cosa, stiamo parlando sempre al di sotto della gola, può essere quello che si chiama il bolo esofageo. Per chi ha fatto chirurgia, il bolo esofageo lo sentono quei pazienti dopo che hanno fatto l'anestesia generale e hanno avuto un tubo in gola che mantiene la loro respirazione durante l'anestesia generale e hanno la percezione, il nome corretto sarebbe sensazione del corpo estraneo, di qualche cosa che ha premuto, hanno la memoria fisica, cinestesica, di qualche cosa che ha premuto e lo definiscono, è un muco che non riesco né a sputare né a inghiottire. Tipici di questi pazienti sono il... come se schiarissero costantemente la voce, ma è chiaro che non tutti hanno un muco vero e proprio, non tutti espellino un muco o l'inghiottono, perché è una sensazione di irritazione. Altri invece possono presentarsi con questa tosse che è stizzosa, non produttiva. La tosse produttiva è quando sputi muco e mi raccomando controllate il colore del muco perché quello vi fa capire se c'è un'infezione oppure no, però... Ma non viene fuori il muco, è stizzosa. Come? Si stanno chiedendo se la tosse stizzosa può essere esofagite. La tosse stizzosa può essere da irritazione dell'esofago, poi per arrivare all'esofagite, l'esofagite va vista da un endoscopio o va bioptizzata e quindi vista a una biopsia, però possiamo parlare di irritazione dell'esofago, questa irritazione cronica di basso grado, la quale è di solito o legata all'evento reflussogeno dopo i passi, quello più classico, ma quello più temibile è quello notturno, senza volere... Puoi andare a coricarti tre ore dopo aver mangiato, ok, puoi fare la dieta leggera alla cena, ok, ti puoi mettere due cuscini non sotto la testa ma sotto il materasso, ok, però lo stomaco e la bocca sono la stessa altezza e quando noi respiriamo, non me ne vogliano i colleghi fisioterapisti e osteopati che sono online, quando noi respiriamo noi aumentiamo la pressione, l'addome la diminuiamo, questo aumento della pressione se c'è una porta aperta, quella che mette in contatto stomaco ed esofago, se questa porta aperta, fisiologiche variazioni della pressione dal respiro possono portare materiale fino là sopra, fino ad arrivare alla bocca. E allora ecco l'altro segno, l'irritazione delle corde vocali per cui molti pazienti poi vanno a visita dagli otorino-laringoiati, si fanno vedere con una microterecamera poco invasiva che entra dal naso, loro vedono l'irritazione della gola o delle corde vocali e giustamente l'otorino sospetta un reflusso perché lo vede, non sa se è acido biliare, non sa se c'è un'ernia iatale o una gastrite e in automatico il collega otorino prescrive il gastroprotettore, cioè senza avere visto di che cosa c'è sotto. Altri segni caratteristici, la patina bianca sulla lingua che può essere anche un segno di candidosi, gastro, esofago orale, la lingua secca, il sapore amaro o metallico in bocca al mattino, la lingua asciutta, le spaccature, io ho una collezione di lingue, è brutto da dire che uno vada in giro per l'Italia con collezioni da lingue, ma io ho visto tante di quelle lingue e dico a me nessuno me l'ha insegnata all'università, non c'era un libro delle lingue. E allora io dico ragazzi a me io sto vedendo queste cose, reimpariamo a guardare la lingua. Quindi se possiamo essere estremamente sintetici, tutto quello che va da qua a qua, che non ha l'acido, che non ha la qualità del bruciore, potenzialmente è un reflusso atipico o biliare. Se poi tu ti stai prendendo un gastroprotettore perché è giusto così, perché il tuo medico si è assunto la responsabilità di andare oltre le indicazioni AIFA, oppure se qualcuno si è preso la responsabilità di darti per anni un gastroprotettore per un reflusso, è chiaro, non è acido, ma il reflusso rimane, l'ernia ietale o l'ipotono del Cardies non li hai guariti. Ok, è chiaro Francesco? C'è una domanda che ho visto che stava scorrendo, che se prendo un gastroprotettore ed è un reflusso biliare, non succede nulla? Non so quanti di voi nel passato per digerire hanno mai usato la spremuta di limone col bicarbonato. Il limone è acido, ha una qualità acida, il bicarbonato invece è alcalino, quindi è tutto il contrario. In questo caso, quando il cibo esce fuori dallo stomaco ed esce fuori dallo stomaco molto molto acido, si calcola che possa avere un pH tra due e due e mezzo, quindi acidissimo, trovi nel duodeno il suo pompiere. Fondamentalmente la bile che è alcalina è il succo pancreatico che è la sua secrezione di bicarbonati, per cui nel duodeno ci dovrebbe essere un pH molto diverso, più o meno 8. Quindi il duodeno è il pompiere dell'acido gastrico, giusto? Altrimenti brucierebbe quella parte. Ok, quindi se c'è un passaggio, ecco perché c'è l'antro dello stomaco che può andare incontro a metaplasia intestinale. Se c'è un costante ritorno della bile, perché ci può stare, ma se il reflusso è costante, in questo passaggio quella parte dello stomaco dice io non so come proteggermi, mi trasformi in intestino. Dall'altra parte piccole quantità di bile nello stomaco, diciamo che a livello chimico fanno poco, ma se la bile è alcalina e io in un paziente non mi accorgo o non ho questo sospetto e gli do un gastroprotettore spegnendo la produzione dell'acido gastrico, io trasformo lo stomaco di questo paziente potenzialmente in un ambiente non acido e che va verso la neutralità del pH, ovvero, oltre alla neutralità c'è l'alcalinità. Quando noi creiamo questo, quando noi creiamo un ambiente alcalino nello stomaco, noi stiamo assicurando a questo paziente un'altissima possibilità di un reflusso di batteri dal duodeno allo stomaco con la creazione di una disbiosi gastrica e di una ipocloridria. Oggi ci dovremmo chiedere quanti pazienti camminano per l'Italia senza acido nello stomaco, senza motivo, o perché gli è stato dato un farmaco inappropriato o perché nessuno gli ha fatto bene la diagnosi. Questi pazienti dovrebbero ricevere dallo Stato non il gastroprotettore, ma l'acido gastrico, per dirti la betaina HCL, per aiutarli a riprendere il funzionamento dello stomaco. E quando si ritrova questa acloridria che, ripeto, è pericolosa perché ovviamente possono arrivare patogeni nel duodeno, potrebbe essere causa di SIBO e potrebbe essere veramente un disastro. Quindi ti chiedo Gabriele, visto che ho visto qualche altra domanda, cosa fare in caso come rimedio sia farmacologico o di integrazione e di alimentazione, in caso di reflusso acido o di serbiliare? Concentriamoci sul reflusso. Io qua spero di rispondere alle domande a volte non carine degli utenti che dicono che io non rispondo mai. Perché come diceva il collega Garritano all'inizio di questa diretta, il fatto che tu scriva su un post, c'ho la vitamina D a 3 che cosa devo fare? Oppure c'ho l'acido gastrico, cosa devo fare? Questo però non mi fa capire qual è il tuo problema specifico. Per problema specifico che intendo? Uno, qual è la causa della gastrite barra reflusso? Perché la prima donna ci dovremmo fare. Se io so qual è il tuo problema e lo vedo all'interno di un sistema che è la medicina funzionale, io ti dico c'è più di un punto in cui si può intervenire. Però parto dalle cose generiche. Prima cosa, cos'è che ti fa avvenire la gastrite? Il cibo, le relazioni tossiche, le emozioni trattenute. Non scordiamoci che prima dell'84, prima dell'83, tutti erano convinti che lo stomaco fosse sterile e che le uccere erano legate a problemi psichici, ad ansia o a rabbia. Sappiate che effettivamente è così. Io sono costantemente arrabbiato. L'attivazione dell'asse dello stress può togliere sangue al sistema digerente e quindi dare un malfunzionamento. Altre volte ho un eccesso di cibo perché io mangio sempre la stessa cosa. Che ne so, gallette di riso a colazione, pranzo e cena da lunedì alla domenica 365 giorni in atto. A un certo punto il corpo dice oh non ne voglio più e te lo fa capire. Più spesso questo capita con tre categorie di cibi. I latticini di vacca, i primi in assoluto, sulla cui lessività si sono spesi migliaia di colleghi che ovviamente poi vengono contrastati da ricerche che invece vengono finanziati da chi il latte lo produce lo commercio. Le proteine dei cereali. Non parliamo di glutine perché sul glutine, gluten in latino è colla, però non è che c'è solo il glutine ci sono anche gli pseudo cereali ma ci sono delle proteine irritanti all'interno della famiglia dei cereali i quali se tu li mandi una volta ogni tanto non ti fanno problemi ma se li mandi colazione, pranzo e cena da lunedì a domenica ogni mese di ogni anno 365 giorni in atto a un certo punto il corpo ti dirà, te lo comunica sto male. Ti puoi prendere la migliore pillolina del mondo che spegne l'acido, ma l'acido è un segnale, è per il tuo bene, ti sta dicendo Francesco c'è un problema, quando io spengo quel segnale d'allarme io non so quanto sto facendo del bene a me stesso perché il processo infiammatorio va avanti, io semplicemente non lo so e quando il processo infiammatorio va avanti fa ancora più danni, diventa cronico. Quindi la prima cosa che io dico, ma lo dico con delicatezza, mai mai provato per due settimane, lo dico così, per due, tre, quattro settimane a togliere latticini e cereali, se proprio non ce la fai, fai così, aggiungi parmigiano oltre 24 mesi, oltre 30 mesi, non ha più le proteine del latte, il riso è accettato per esempio per il protocollo del metodo Apollo. Poi certo bisogna contestualizzare, dipende dalle persone, ma hai fatto questa prova? Poi siccome sembra che noi abbiamo quattro verdure in Italia, quattro sole, che sono il pomodoro, la patata, il peperone e la melanzana, su cento e passa mila specie commestibili, noi abbiamo sempre le quattro cose, che sono quattro verdure della stessa famiglia, le solanacee, che contengono le solanine che sono prodotti infiammatori. Poi ti dovresti chiedere come cacchio fai ad avere cibi che sono tipici di luglio, averli da gennaio fino a dicembre, come quando a Palermo arriva l'anguria ad aprile. perdonami, devi essere molto intelligente, non c'è bisogno di essere un genio, ma come cacchio le hanno fatte? In serra, con la polverina. E tu ovviamente ti aspetti che questa cosa non faccia niente. Ma dicevano no, ma io l'ho mangiato una sola volta, perché guardi quello e non sai per esempio che gli animali allevati diversamente dal grass feed, cioè quelli che non sono allevati all'aria aperta, sono bombati di antibiotici dalla seconda guerra mondiale. In America, non mi ricordo se il 70-80% degli antibiotici consumati in America sono per uso di allevamento. Quindi, prima cosa, ma che cosa è che il tuo corpo sta tentando di comunicare? Io te lo dico ogni volta, non è che ti dico devi fare una visita con me, devi fare una gastroscopia. Io domando, il tuo corpo che cosa ti sta tentando di comunicare? Qual è il cibo che hai notato? Qual è la persona con cui stai male? Io qua voglio citare una donna meravigliosa, il nome non voglio dirlo, la quale mi dice, io l'ho scoperta alla causa della gastrite. Da quando il Covid mi ha obbligato a casa, al telelavoro, mi è passata. Secondo te che vuol dire, Francesco? Eh, che ha abbassato forse i livelli di stress, no? O magari che all'interno del lavoro questa donna subiva una relazione tossica, una relazione che la faceva star male e che essere stata obbligata a casa a fare la quarantena, le ha fatto toccare con mano qual era la causa. Come minimo comunque ne è diventata consapevole, perché poi noi ce lo dovremmo domandare la nostra religione cristiana, che nasce da un misunderstanding del passo di un Vangelo che è Luca 6, 27, 42, che è stato frainteso, che non dice porgi l'altra guancia, non dice quello. Andatevi a leggere Luca 6, 27, 42, e voi trovate la vera radice della cristianità e delle sciocchezze che ci hanno interpretato da anni a questa parte. Non è porgi l'altra guancia, è un'altra cosa. Luca non è Luca Speciani, è giusto? No, no, sì, secondo Luca Speciani. No, giusto volevo, magari se uno può fraintendere che è diventato anche un... Ok. No, no. Poi l'altra cosa, come mangi? Cioè c'è gente che non mangia colazione perché scappa. A pranzo, ma io li ho conosciuti come li hai conosciuti tu, gente che guida, rappresentanti che si mangiano un panino seduti in macchina e quando arrivano a casa la sera, otto e mezzo, nove, nove e mezzo, mangiano tutto quello che non hanno mangiato durante la giornata. Quindi parliamo anche di una errata distribuzione durante la giornata perché è tramontato il sole, voi avete la minima funzione dell'apparato digestivo. Me ne rendo conto. Ma non è la pillolina che ti aiuta a capire che devi cambiare le tue abitudini. Altro sulle abitudini, anche se è difficile, tu hai un potere e sei motivato per farlo. Non hai bisogno che te lo dico io, io te lo posso dire affettosamente, ti posso dire sono con te, ti supporto, ti sostengo, ma devi fare tu. E non so se forse ho divagato tanto, ma io considero sempre che chi ci sta ascoltando non sono pazienti, sono esseri umani. E l'essere umano... Fai bene a specificare queste cose qua, ma anche per il semplice motivo che, come molti sottolineano, la visione olistica, e abbiamo sottolineato spesso, bisogna vedere un attimino quali sono i problemi che non è semplicemente o dare la pillolina o eliminare... Io proprio oggi in una videoconsulenza ho detto a una persona, non è che togli un cibo o lo ruoti e risolvi la problematica, se per esempio ti aggiungo un'altra cosa che non hai detto, la masticazione che deve essere fatta molto lenta. Perché se arriva del cibo molto rapidamente allo stomaco, questo va a finire che se non svuota bene nel duodeno, questo mi stazione di più nello stomaco, mi apre il cardias e mi fa salire dal contenuto. Da un punto di vista di funzionamento, della digestione, quello che digerisce i carboidrati e gli amidi non è lo stomaco, ma sono le amilasi salivari. Cioè voi avete nella saliva l'enzima che aiuta a predigerire la frutta, la verdura, gli amidi, il pane, la pizza. Mentre l'acido nello stomaco ha un'altra funzione, al di là di quello di sterilizzare il cibo, ha la funzione invece di sciogliere e di rendere più semplici da elaborare le proteine. Così se io mi mangio un panino con la salsiccia, ma mi faccio tre bocconi e me lo inghiotto sano, nello stomaco arrivano un pezzo di pane sano e un pezzo di salsiccia sano e lo stomaco deve fare una scelta. È un po' come una lavatrice che deve decidere. Tu gli metti dentro un carico di sporco difficile e delicato e gli devi dire, lavatrice scegli tu. La lavatrice che programma mette? Se mette il programma dei delicati, lo sporco difficile non si lava. Se mette il programma dello sporco difficile, rovini i delicati. Se metti un programma a metà, i delicati sono un po' rovinati e lo sporco difficile è un po' lavato. E quindi hai fatto nulla. No? Assolutamente d'accordo. Quindi diamo delle indicazioni, visto che abbiamo parlato di alimentazione, quindi abbiamo parlato di glutine, abbiamo parlato di cereali in generale e del glutine in modo particolare, abbiamo parlato dei latticini, abbiamo parlato delle solanacee, abbiamo parlato di variare il nostro cibo più possibile, perché molte infiammazioni si chiamano infiammazioni da cibo perché ovviamente il cibo viene oggi sovraesposto, noi mangiamo sempre le stesse cose, abbiamo parlato della masticazione che deve essere lenta perché la prima digestione viene in bocca. Abbiamo detto tante cose, ma come rimedio se uno ha una gastrite? Ti chiedevano pure prima, ho visto anche l'aloe vera, ho visto tu che cosa consiglieresti per una gastrite? Ci sono delle sostanze, dovremmo fare due cose, intervenire in acuto, come giustamente diceva l'altro giorno Enrico Bevacqua, intervenire in acuto significa anche usare un farmaco, quanto basta è il meno a lungo possibile, con la minore dose possibile per alleviare un problema di un paziente, diciamo questo per esempio se siamo in attesa di esami, però è vero anche che l'acido gastrico e la gastrite possono essere tamponati in altre maniere, è banale ma mia nonna morta all'età di 102 anni mi raccontava che lei usava per esempio il semolino come gastroprotettore, cioè essendo il semolino avendo una certa caratteristica di andare a riempire allo stomaco, evitava il contatto dell'acido con lo stomaco, per esempio. C'è chi mi ha chiesto nelle domande se potevo usare il bicarbonato, e sì, il bicarbonato può essere usato, ci sono parecchi adsorbenti dell'acido, un adsorbente facilissimo da rintracciare, molto efficiente, facciamo nomi, per esempio il bionacid, ma il bionacid che cosa fa? È una spugna per l'acido, poi addentro anche qualche cosa che fa smuovere meglio lo stomaco, però fondamentalmente è un assorbente per l'acido. Se già tu lavori sulla dieta e mangi bene, tu già vedi come digerisci bene, se ci fosse bisogno di un aiuto, ci sono delle piante riconosciute dalla farmacologia ufficiale antica, la cosiddetta fitoterapia, che hanno un effetto specifico. Mi ricordo per esempio c'è uno sciroppo prodotto da un'azienda siciliana che si chiama GastroCab, che è a base di Carrupa e di Opunzia, cioè di Palo di Fico d'India. C'è la ficuscarica che ha altrettanto efficacia nella regolazione del lavoro dello stomaco. Il colosto? Il colosto diciamo che secondo me con la gastrite c'entra poco, c'entra più con l'intestino che non con la gastrite, però magari la mia esperienza. L'hanno fatta qui l'uso del colosto? Diciamo che l'uso del colosto dovrebbe essere da quando nasciamo fino al nono mese di allattamento, quello sarebbe perfetto il colostro, colostro materno, senza mettere niente, senza mettere biscotti per favore, colleghi per favore, biscotti nel biberon non ne mettete. Quello su cui io mi sono specializzato, tenendo conto che i lavori scientifici sono chiari su questo, è che io, a secondo del tipo di paziente, c'è anche un altro prodotto che lavora molto bene nello stomaco, che è il Pilorex della Bromatec, il quale contiene un lattobacillo che è un nemico specifico dell'elicobatter, e all'interno di questa compressa della Bromatec è l'unica compressa rigida, è perché contiene delle proteine della soia fermentate che ha contatto con l'acido, essendo queste proteine fermentate molto simili al muco gastrico, nel momento in cui entrano in contatto col muco gastrico si trasformano, con l'acido gastrico si trasformano in muco, quindi proteggono, ma stiamo parlando di stomaco e non di esofago. No, no, spiega meglio questo del colostro che riviene di nuovo la tua mano, il colostro tu hai detto che è più sull'intestino, invece per lo stesso… Il colostro è un disinfetto, il colostro viene considerato una proteina che ha effetti protettivi rispetto ai batteri cattivi, quindi potremmo vederlo con un effetto, è brutto dire antibiotico, antimicrobico, è un protettore della nostra flora, ed in effetti è una proteina fisiologicamente presente nel latte di mamma. Ecco perché dico fino a nove mesi va bene, tanto quando si nasce a nove mesi sempre va dato, sempre, quando si può. Sullo stomaco non ce lo è, sull'intestino ne possiamo parlare, sulle disbiosi dell'intestino ne possiamo parlare. D'altronde Mainardi col protocollo Restart ha dimostrato che a volte basta sistemare l'intestino per vedere sistemato lo stomaco, no Francesco? Assolutamente sì, assolutamente. Tra l'altro c'è stato qui Paolo Mainardi in una delle dirette. No, allora, quindi abbiamo capito che rimedi, abbiamo capito che alimentazione, adesso concentriamo con qualche consiglio sia alimentare che integrativo per quanto riguarda l'esofalgite, quindi il refluxo acido e il refluxo biliare. Quindi siamo precisi su queste due cose. Ho visto, e mi dispiace perché dovrò fare, mi sono permesso di fare nome commerciale di aziende diverse, ma io ho visto a partire dall'anno scorso, quando ho incominciato a prescrivere, una bustina magica. Questa bustina è stata creata con l'idea che fosse per comodità simile ai vari gavis con Riopan, ma con una caratteristica particolare. Tre sostanze presenti in questa bustina sono malva, camomilla e calendula. La camomilla è stato dimostrato che la camomilla in soluzione è acquosa e ripara le uccere dello stomaco. L'hanno visto sui topi perché è antietico andare a chiedere a un paziente, ti faccio venire l'ucera per poi vedere se ti è sicuro, per chi dice voglio i lavori scientifici. La camomilla tra l'altro ha una cosa bellissima, è una molecola, se proprio vogliamo vedere la singola molecola, che è il bisabololo, il quale ripara oltre le uccere gastriche anche le afte, le afte della bocca, i tagli nelle labbra, l'achelite angolare che può arrivare, così come io ho visto con questa stessa bustina quello che sono riuscito a fare è cambiare di lingua, cioè i tagli della lingua che spesso sono o da malassorbimento intestinale o da reflusso pediare. La malva e la calendula hanno delle proprietà antinfiammatorie e tra l'altro hanno delle proprietà antinfiammatorie specifiche sulle mucose, quindi sulla parte interna della pelle, la parte interna quindi parlavo di quei 250 metri quadrati di superficie interna e la genialità di questa bustina è che all'interno di questa bustina c'è una sostanza che si chiama metilsulfonilmetano, che è una forma di zolfo che va bene per il nostro corpo, la quale ha la bruttissima, a parte riparare il connettivo c'è le sue cose, ma ha una temibile capacità di aderire all'epitelio. Quindi cosa dico ai miei pazienti? Un minuto prima di andare a dormire, una bustina, una, una giorno, un minuto prima, prima di coricarti, questa roba si blocca e occupa il tubo dell'esofago durante la notte evitando il reflusso e quindi tu hai, a secondo della qualità del sonno, tra le 5 e le 8 ore di contatto tra queste sostanze il tuo esofago. C'è chi lo prende al mattino, c'è chi lo prende dopo i passi, ma io dico il massimo dell'effetto è quello di prenderlo un minuto prima di andarsi a coricare. A chi ha la lingua orente, c'è la lingua che gli brucia e ha dei tagli, te lo vedi, segui i miei posti quando io ti dico fatti le linguacce, una parte di questa bustina la metti su un cucchiaio e la spalmi sulla lingua, oppure la porti con la lingua se ci sono delle lesioni del cavo orale. Un giorno viene da me un paziente in ambulatorio e mi dice dottore io la ringrazio perché in tre giorni mi è passata, sono riuscito a dormire e io lo guardavo, non do prodotti per dormire, dice no no perché in tre giorni di queste bustine a me mi è passata la tosse notturna. io la, sarà stato novembre, dicembre dell'anno scorso, la ho incominciato a testarlo su più pazienti e ho visto gli effetti. Ti chiedono come si chiama questa bustina? E ora lo dico, l'importante però è che capiate che questa bustina lavora sullo stomaco, e cioè scusami, sull'esofago, dalla bocca all'esofago. Ti ha risposto Enrico e ti ha detto MRG Sol, ormai ti ha sgavato. L'acronimo MRG Sol è MRG è malattia del reflusso gastroesofageo e Sol è soluzione. La soluzione è la malattia del reflusso gastroesofageo. Poi facciamo finta che stiamo parlando fra di noi e che nessuno ci ascolta. Poi sappiate che il dottore Prinzi ci mette la faccia da un anno e mezzo, da Siracusa a Bolzano, a in quasi ogni città d'Italia, o un fisioterapista riabilitato, capace di riabilitare il carnetto e rimettere a posto l'ernia iatale, a partire dalla grande Imma Trabucco a Roma, fino ad arrivare ovviamente nelle piccole periferie per chi non ha possibilità di spostarsi a Roma, è che io ci metto la faccia con tutti i pazienti, con problemi del cardiose e problemi dell'ernia iatale, trovate un buon fisioterapista o osteopata viscerale, ve la mette a posto, è capace di metterla a posto e quindi questo diventa un'alternativa rispetto a gastroprotettore a vita o intervento chirurgico. Cioè l'intervento chirurgico non puoi tornare indietro, l'osteopata uno, due, tre sedute te lo rimette a posto, non ti mette aghi, non mette tubi, non cambia l'anatomia. Ed è un anno e mezzo che io collaboro e ringrazio i colleghi fisioterapisti e osteopati che ho incontrato perché mi hanno restituito una parte dell'anatomia e del funzionamento del corpo che all'università non mi avevano, si erano dimenticati di insegnare. Ok, allora stavamo dicendo, ti faccio un'altra domanda che è venuta fuori, può spiegare come curare la candida intestinale e cosa mangiare al riguardo? Visto che prima abbiamo accennato la candida, una domanda... Partiamo da che cosa mangiare, partiamo da che cosa mangiare. Le candide adorano gli zuccheri e i cibi fermentabili. E quindi se si sta lavorando su una candida, io sono particolarmente attento a dirlo ai pazienti, bisogna farsi seguire da dietisti o biologi e nutrizionali. Allora, stiamo perdendo un po' come linea. Scusami, mi chiamavano dal ragù, ho chiuso. Allora, FODMAP è l'acronimo delle sostanze, dei cibi che contengono sostanze fermentabili. Come si cura la candida? Diciamo che la domanda sarebbe ancora più carina, come si fa di agnosi di candida? Perché là si rompono i telefoni, come si dice alle mie parti. Perché nessuno... Intanto non riconosciamo più il mughetto. Quindi figurati quando poi arrivano a certi professionisti, arrivano delle donne con candida vaginale, non vedono l'ora di bombardare la vagina con le migliori compresse, ovuli, candele e quanto... Chi più ne ha più ne metta. Scordandosi che però il nostro... Se arrivano nella vagina non è perché il partner ha passato un'infezione, ma perché c'è stato un passaggio tra organi e organi e l'organo che per la sua estensione, ovvero 250 metri quadrati, è il contenitore del nostro microbiota e l'intestino. Le candide però... Normalmente, così come Enrico Bevacqua, ci sono almeno tre aziende, tre laboratori di analisi in Italia in cui propongo ai miei pazienti di mandare le loro feci, è che fra le altre cose cercano le candide, non solo i batteri. Cercano le candide e se le trovano, fanno un esame molto carino che si chiama aromatogramma. L'aromatogramma è simile all'antibiogramma e al micogramma. Nell'antibiogramma in effetti si cerca, una volta coltivato su una piastra di petri il batterio, gli si mette l'antibiotico per vedere qual è l'antibiotico più efficace. Nel caso del microgramma è la stessa cosa, ma si mette l'antimicotico. Nel caso dell'aromatogramma si usano gli oli essenziali, la cannella, il titri, il rosmarino, origano, eccetera. Ora, ci sono due problemi in Italia. Ringraziando i nostri legislatori il fatto che noi siamo sottoposti a una tirannia burocratica per cui il rapporto medico-paziente è stato depersonalizzato a partire dal 1995, grazie a rosepildi e quindi non esiste più il rapporto medico-paziente, ma anche una serie di farmaci spettacolari sono spariti. Su 12 antimicotici che mi testano queste aziende, per esempio per l'intestino, di questi 12 antimicotici, 11 sono o pomate per le uglia, o per la pelle, o candele vaginali. E io sinceramente, di fare pigliare a una cristiana, la candela vaginale, perché mi manca quella sostanza, non mi va. E allora mi butto sull'aromatogramma. E, curiosità, 8 volte su 10 le candide sono sensibili a olio essenziale di origano, olio essenziale di timo, olio essenziale di titri, olio essenziale di rosmarino, olio essenziale di garofano. Quindi, che cosa mi viene data, che possibilità mi viene data, quando un'azienda mi dice, c'è la candida garritanensis, o la candida prinzensis, che è sensibile all'olio essenziale di timo, di cannella di origano, e hanno detto, bene, so come si chiama, so a che cosa è sensibile. E qua, due specifiche, perché tanto i laboratori sono, il Val Sambro, a Bologna, Ramfi, Filippo Rampi, persona meravigliosa, unica persona in Italia, che veramente merita da parte di tutti, è un grande collaboratore dell'AMPAS, e la dottoressa Rosa Tafuria da Grigento, con il Centronamip. Io, almeno, conosco questi tre, non mi pagano, ma io conosco questi tre. Nel momento in cui tu hai una candida, ci devi scommettere la tua laurea, che quella candida si è nascosta all'interno di uno strato del biofilm, così come l'elicobatter. Questo strato del biofilm, come nei batteri gram negativi, così come nelle candida, fa parte della loro strategia di resistenza, e rende questi microorganismi tra dieci e mille volte più resistenti alla terapia antibiotica, alla terapia con probiotici, ovvero all'azione del sistema immunitario. In più, rappresentando dei serbatoi, delle specie dell'enclav, diciamo così protette, rappresentano dei serbatoi da cui spuntano fuori le infezioni croniche recidivanti. Per cui è curioso, dottore, dottore, io ho fatto quell'antibiotico, mi nelle prime due settimane sono stato benissimo, digerivo le pietre, digerivo il peperone, mi sono mangiato tre pizze, arrivato al quattordicesimo giorno, al mettesimo giorno, sono stato male. E' curioso, no? Il biofilm è talmente studiato, Francesco, perché in questo momento noi stiamo vedendo nel biofilm lo strumento tramite cui alcuni batteri del cavo orale, della placca dentaria, fanno tumori del colon di destra. Tu immagini, cioè dal cavo orale al colon di destra. Poi ci dovremmo chiedere come ci arrivano. E semmai queste persone che hanno tumore a destra per via del fusobacterium non sono quelli qua fuddati di quintali, di gastroprotettore da anni, poi ci lo dovremmo chiedere. Però, quindi la prima cosa è qua appoggio quello che ha detto Enrico Bevacqua che mi ha fatto sentire più intelligente di quello che pensavo quando lui ha citato per 13 volte l'eniacetilcisteina. L'eniacetilcisteina sia benedetto, sia per l'effetto che fa sul muco, sia perché è un precursore del glutatione. E a proposito, tu che mi stai sentendo che mi chiedi se la vitamina D fa male al fegato, sappi che l'intossicazione da paracetamolo è la prima causa al mondo di trapianto di fegato e non te lo dicono, ti dicono no, ma c'è la vitamina D fa male al fegato, però il paracetamolo no, a ottantenni, a 3-4 grammi al giorno, chi se ne frega, giusto Francesco? Giusto Enrico? Non si parla del paracetamolo, solo la vitamina D fa male, il grasso protettore no, assolutamente. Quindi, l'eniacetilcisteina noi l'abbiamo in commercio come nome di fluimucilla che Dio lo benedica, però sono compresse effervescenti o bustine, che vuol dire che essendo liquido la sua funzione di scioglimento del biofilm va da qua a qua, cioè va, prende un piccolo tratto. Se si deve andare a bombardare una candida che mediamente sta nel duodeno digiuno ileo, allora dobbiamo usarla a compresse. Gli studi scientifici anche sul morbo di Crohn e sulla rettocolitulcerosa risultano non pericolose dosi di 600mg tre volte al giorno. Non è che sto dicendo che se ne prendi quattro dosi succede qualcosa di male, ma sono considerate sicure. Se poi non ti piace l'idea di andare in farmacia e di comprare la compresse, sappi che su Amazon mediamente 120 compresse di eniacetilcisteina da 600mg ti costano 16€. Così, giusto per dire. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, gli oli essenziali, io ho incominciato a lavorare sugli oli essenziali appena tre o quattro anni fa. E spesso e volentieri che ne sono sulle candide orali, su cui stiamo lavorando a un colluttorio, però sulle candide orali è chiaro, gli sciacqui di T3, cioè tutti lo sanno che una o due gocce di T3 per fare gli sciacqui o sullo spazzolino aiuta tantissimo sulla placca. ma se devi lavorare se devi lavorare sullo stomaco ancora ancora vanno bene le gocce. Se devi lavorare oltre allo stomaco devi usare delle compresse. Le compresse che quindi gastroresistenti che superano lo stomaco e vanno a rilasciare il loro chiamiamolo così bombardamento selettivo e lo vanno a rilasciare dopo. Quindi non basta parlare di oli essenziali o di eniacetilcisteina nella strategia che fa il medico sulla base degli esami per cui io vedo che ne so con l'esame dei tre zuccheri so dove la disbiosi o se c'è una permeabilità intestinale o se mi aspetto che il problema sia duodenale digiunale eccetera questo nell'ambito della mia esperienza fatta con parecchie persone nel corso di parecchi anni mi fa dire uso questo piuttosto che quell'altro ma non darei mai mai una terapia contro le ricobatter pilori mai una terapia contro le grammi negativi contro la candida che non contenga dosi lunghe anche per due mesi di eniacetilcisteina ok detto questo passiamo ad un'altra domanda che ti hanno fatto che esami fare per meteorismo e flautolenza qua andiamo su un discorso bellissimo che cos'è il meteorismo che cos'è la flatulenza la flatulenza lo so ma il meteorismo che cos'è che cosa si intende per meteorismo il fatto che mi gonfia la pancia allora dottore ma sai che mi gonfia sempre la pancia oppure ho la pancia piena d'aria me lo dice il radiologo io gli dico senta ma questa aria puoi escire fuori e ti guardano e dici no quindi forse quello che tu chiami meteorismo amico mio o aerofagia è la pancia che gonfia per effetto dell'istamina e la pancia che si sgonfia nel momento in cui l'effetto dell'istamina ha smesso se invece c'è flatulenza diciamo che fino a un certo punto diciamo alcune scorregge ci stanno alcune quando diventa costante e soprattutto quando cambia l'odore tu devi sospettare che dentro il contestino ci sia uno scudito qualche cosa che non funziona più regolarmente come prima e se lo vedi come un condominio non mi ricordo qual è l'esempio che faceva Enrico l'altro giorno però se lo vedi come un condominio di tua proprietà è come se qualcuno ha scassinato gli appartamenti è andato dentro ha occupato gli appartamenti fa dei parti a spese tue e ti fa pagare pure le bollette della luce del gas e tu non li puoi buttare fuori la legge italiana è così quindi tu che esame devo fare io diciamo mi affiderei a professionisti capaci vista l'esperienza che hanno che magari già sentendo di parlare ti dicono qual è la soluzione perché molto spesso sia per motivi economici che per motivi di tempo si va sulla cosiddetta terapia ex adjuvantibus cioè vediamo se funziona ci sono dei professionisti in Italia che adorano due antibiotici come se esistessero solo quei anzi tre sono gli antibiotici come esistessero solo quei tre e se dopo una settimana dopo due settimane tre settimane non hanno fatto effetto ti raddoppiano le tosse si dice no vabbè non è bastato te lo raddoppio sono pure quelli che l'antibiotico te lo danno per sette giorni al mese perché hai diverticoli e poi io beh su questo stendiamo un velo pietoso perché poi si parla di antibiotico resistenza in cui l'Italia e la Bulgaria penso che in Europa se la giochino a pari merito una cosa quindi che fare l'ecografia no perché l'ecografia se c'hai l'aria nello stomaco non vede nulla a volte a volte le radiografie possono essere utili le radiografie con il mezzo di contrasto ad avere perché possono vedere se c'hai delle zone dilatate oppure no ma se dovessi puntare una singola fish su un esame io andrei per prima cosa a fare un banalissimo esame chimico fisico delle feci è un esame parassitologico delle feci di quelli che possono essere prescritti spesso la vedi amidi non digeriti proteine non digerite presenza di grassi diciamo questo è l'esame più facile se però sei solo e non vuoi essere seguito da un medico a volte quell'esame è negativo cioè non ti dice nulla che non vuol dire che non hai nulla ma che quell'esame è arrivato a qui e che non è abbastanza per poter fare la diagnosi quindi io dico sempre trovatene uno che vi ispira fiducia che vi dice buongiorno che vi saluta che vi d'ascolto e chiedetegli sostegno nell'ambito della soluzione del vostro problema di salute ok allora ti chiedono visto che non dicono non rispondete alle domande allora noi stiamo cercando di rispondere alle domande che ho scritto io qui che abbiamo riportato vecchie non stiamo rispondendo alle domande che stanno arrivando a 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 la terza puntata Francesco ancora non abbiamo parato di elicobattere la domanda non te la faccio proprio perché stanno chiedendo anche delle elicobattere però stiamo cercando di dare delle risposte a domande che sono venute nelle dirette precedenti non solo e abbiamo e siccome quello che facciamo siccome noi non rispondiamo alle domande quello che diciamo noi come qualcuno maligna serve solo a a portare avanti certi traffici economici in questo momento abbiamo 671 persone che ci ascoltano a cui non stiamo chiedendo una lira e accudiamo informazioni tali che sebbene applicate non avete bisogno né di me né del dottore né del collega che mi sta ospitando l'idea è che se noi facciamo siamo veramente medici e ci occupiamo della salute l'educazione al nostro paziente fa parte del nostro lavoro però io purtroppo cioè mi posso dedicare due ore alla settimana quando il buon Francesco mi ospita non è che posso stare dalla mattina alla sera a rispondere a a rispondere ai commenti fatti in una pagina pubblica cioè perdonami quando tu metti i tuoi dati in una pagina pubblica in un post pubblico ho questa malattia il medico mi ha fatto questo mi hanno infilato un tubo mucca mi hanno infilato un tubo da un'altra parte hanno trovato questo i miei esami sono questi e quindi tu sciorini dei dati sensibili che devono essere protetti da Pravi sono i cacchi tuoi in pubblico non ti aspettare che io in pubblico ti rispondo perché non è corretto io do informazioni io dico tutti io spero che non abbiate bisogno di me ma più di questo non ci arrivo sono uno la pagina la gestisco io hai detto una cosa buona perché non è che facciamo ripeto queste dirette per prenderci pazienti sia io che il dottore Prini tra l'altro le prime visite per quanto mi riguarda dopo aver sentito parlare parlare Enrico Bevacqua che io stimo profondamente oggi abbiamo deciso con la segreteria che le prime visite sono chiuse fino a fine agosto quindi è inutile che chiamate cioè l'agenda riapre da fine agosto quindi non sono qui per fare proseliti né per proporvi di venire a visita ma vi dico continuate a seguire questi canali e mettetele in pratica cacchio queste cose fai la prova per due settimane a non mangiare latticini falla la prova e tra l'altro stiamo come dicevamo prima dando delle stiamo dando delle indicazioni gratuite no? cioè non stiamo dicendo qui per esempio abbiamo affrontato il tema di candida cioè io cerco di riassumere no? Gabriele un attimino cerco di riassumere tipo abbiamo detto candida metti fuori ciò che l'alimenta che sono gli zuccheri abbiamo parlato di vari rimedi per il discorso gastrite abbiamo detto qualcosa sul discorso reflusso sia quello acido che quello biliare adesso l'ultima domanda una delle ultime domande è il reflusso nei neonati che continua a tre anni trattato con un gastro tu sei anche inibitorio di pompa cosa fare? cosa rispondi? parto parto da sottolineando che io non sono pediatra cioè non sono pediatra non sono chirurgo pediatrico per cui alcune cose tipiche della prima infanzia mi sfuggono però ricordo a me stesso perché uno dei miei migliori amici Gianluca Catania che vive nella Sicilia che proprio vive a Catania e lavora ufficialmente all'interno dell'ospedale Garibaldinesima all'interno del reparto di neonatologia mi insegna che a secondo di come nascono i bambini se hanno la testa allungata se hanno avuto traumi basta poco perché l'osteopata lo rimette a posto e si potrebbe evitare reflusso poi ci dovremmo chiedere invece quando piuttosto questo reflusso non sia causato da un allattamento artificiale o da uno svezzamento precoce da una intolleranza ai latticini o da quella che i colleghi americani chiamano le allergie non comunicabili e che alcuni pediatri riescono a riconoscere la maggior parte dei pediatri ne anatologi magari no però le chiamano le allergie non comunicabili perché il bambino te lo può dire piangendo avendo la diarrea con la dermatita topica col vomito nel momento in cui c'è un vomito costante perché quel neonato ti sta dicendo che quella roba non la può mangiare che succede? a forza di vomitare si va a cambiare in un corpo che sta crescendo che non è ancora perfetto non ha tutti gli ancoraggi si va a creare un cambiamento dell'anatomia ma è un cambiamento modificabile il gastrotus è uno sciroppo antireflusso l'inibitore di pompa protonica spegne l'acido nello stomaco ma non risolve il reflusso stiamo lavorando su un sintomo andate cerca un fisioterapista osteopata pediatrico ti risolve il problema chiedi a lui non farà di sicuro del male al bambino non gli farà nessun esame non gli mette aghi né tupi io li ho visti guarire bambini anche piccolissimi di me sì certo no rafforziamo questo che non è che dici come dicevamo sempre se siamo nell'acuto ci comportiamo in un modo se siamo nel cronico ovviamente ci dobbiamo comportare in un altro modo questo ovviamente cioè se è un reflusso giusto per rafforzare quello che abbiamo detto è molto forte in quel momento l'uso diciamo di qualche settimana credo no Gabriele lo si può lo so tu che ovviamente sei da medico puoi rispondere sul pediatrico non ti sono rispondi ma la linea guida dell'AIFA in generale stavo in generale le linee guida di AIFA FIMG SIF e AIGO mi pare del 2015 o del 2016 in generale loro dicono la dose minore possibile diciamo la dose efficace minore possibile per il tempo minore possibile con le giuste indicazioni sui tempi entrano sui tempi esclusivamente sul reflusso dove loro parlano esofagite di tipo A esofagite di tipo B esofagite di tipo C mediamente parlano di otto settimane di trattamento con eventualmente in caso acuto un mese in più di trattamento cioè le linee guida AIFA ok? queste sono le cose ritenute corrette da AIFA quando però un reflusso lo curi da 20 anni con il gastroprotettore ci dovremmo fare delle domande sull'inappropriatezza per esempio sull'errore di diagnosi su su chi si accolla la responsabilità di questa prescrizione con gli effetti collaterali che ci sono perché sono noti non si sarebbero mosse queste tre società scientifiche società italiana di farmacologia associazione italiana gastroenterologi ospedalieri federazione dei medici di medicina generale si sono mosse dicendo picciotti guardate che abbiamo prescritto troppo allegamente questi farmaci hanno degli effetti collaterali devastanti stiamo attenti certo ti faccio l'ultima domanda e poi ci diamo appuntamento grazie grazie perché c'è il gatto che mi chiama dall'altra stanza io per 5 anni ho sofferto di esofagite leggo male domande prendendo tutti i giorni medicina tolto il glutine latticino e sparito ma appena mangio qualcosa e sbagliato ritorna cosa rispondiamo a Loredana allora cara Loredana intanto il fatto che tu abbia togliendo questi due cibi tu abbia avuto un miglioramento da quello che posso capire da questa breve affermazione un miglioramento netto è un collegamento tra alcuni cibi è la manifestazione del tuo problema quindi c'è una connessione il fatto che tu li riprenda e ritorni a stare male ci può stare perché si vede che nessuno ha mai approfondito se il tuo problema col glutine problema con latticini è tale da parlare di infiammazione o tale da andare a ricercare le immunoglobuline per capire se c'è se c'è un problema di potenziale di stimolazione del sistema autoimmune in questo il dottor Attilio Speciani il fratello di Luca Speciani da anni allergologo immunologo milanese lui ha scritto sulla rivista europea di allergologia dimostrando come la dieta a rotazione ha la capacità di aiutare il sistema immunitario a accettare quei cibi esiste quindi il concetto di dieta a rotazione biologi nutrizionisti e dietisti ne sono consapevoli poi uno può andarsi a fare gli esami mica esami però è chiaro che c'è anche chi ha anni di esperienza il gruppo dell'ANPAS dei dei medici di segnale ne è una prova una prova consistente e allora quale domande possono essere io dove voglio arrivare allora tu dove vuoi arrivare vuoi tornare a mangiare la pizza ci sono due strade la pizza la puoi fare con delle cose con delle farine diverse ripeto vatti a guardare tutto il lavoro del metodo Apollo che è molto preciso e ti permettono di scaricare gratuitamente un manuale di 150 pagine dove ti spiegano tutto ovviamente non ti fanno la dieta ma ti spiegano il perché ci sono certi problemi dall'altro lato è quello di trovare qualcuno biologo nutrizionista o dietista che sappia seguirti che ti insegni ti porti mano fino a che tu non sei sufficientemente brava autonoma da non averne più bisogno questo è un consiglio che do a tutti e da oggi in poi vi chiedo di fare attenzione a chi si presenta a voi con una dieta basata sulle chilocalorie fate attenzione su questo mi associo perché noi come gruppo di medici di segnale le chilocalorie le abbiamo le abbiamo e ci saranno delle dirette le abbiamo ormai tolte da tempo ci saranno delle dirette nei prossimi ci sarà la dottoressa Carini che praticamente ci parlerà di questo che ovviamente è responsabile anche della formazione GIFT e tutto il resto che ci parlerà proprio di queste cose qua quindi ne parleremo nei prossimi nelle prossime dirette in modo specifico ovviamente ti chiedono ti faccio l'ultima domanda che stavolta viene dalle dirette di oggi non hai parlato di helicobacter pylori ti traduco la domanda ma in caso di HP è sempre utile eradicarlo o no? e che sanno mi lascio ok due o tre domande e dopodiché non ho idea se Francesco o gli utenti della pagina ci chiederanno la terza puntata per parlare di helicobacter però intanto giusto per capire quando nell'83 è stato scoperto Gabriele anzi Gabriele io ti direi di fare una cosa faremo una terza puntata tra l'anticipo solo su helicobacter solo su helicobacter quindi adesso non andiamo a dilungarci due cose due cose soltanto due cose soltanto ok l'associazione tra le ulcere e i tumori si ha in quelle ulcere in cui si va a trovare l'helicobacter quindi diciamo che l'esame principe dovrebbe essere quello della ricerca diretta fatta in endoscopia con la biopsia delle ulcere questo è l'esame principe se non ci sono né ulcere gastriche né ulcere duodenali noi ci dovremmo chiedere perché cacchio sto cercando helicobacter però siccome c'è gente che non ha niente che fare dice no dobbiamo trovare helicobacter ok ci sono tre esami esclusa la endoscopia quindi la gastroscopia quali sono gli altri tre esami partendo dall'alto verso il basso uno si chiama brittest urea brittest quindi ti fanno bere una bevanda e poi ti chiedono di soffiare in un tubo il secondo è il prelievo di sangue alla ricerca degli anticorpi per l'helicobacter il terzo invece è la ricerca dell'helicobacter nelle fesci sul sangue e sulle fesci per quanto questi esami siano molto sensibili noi non abbiamo un solo tipo di helicobacter nel corpo la famiglia dell'helicobacter è abbastanza ampia gli helicobacter che sono considerati pericolosi dalla letteratura internazionale dall'83 a oggi sono quelli che sono nello stomaco e sono nelle ulcere perché noi possiamo avere l'helicobacter nel digiuno nel duodeno senza che faccia niente di male così quindi quando nella popò dopo sette metri di tubo quando nella popò viene positivo ma da che punto dell'intestino viene quell'helicobacter quando ti fai il prelievo alla ricerca degli anticorpi e trovi quegli anticorpi ma in che punto del corpo si trova l'helicobacter diverso il discorso del brittest dell'urea brittest che viene positivo solo se all'interno dello stomaco o comunque nel primissimo tratto dell'intestino c'è quell'helicobacter che fa quel tipo di reazione che viene vista dal brittest quindi se dovessi dire a un paziente oltre alla gastroscopia qual è secondo me il miglior esame per l'antiagnosi è il brittest questo respiratorio quello delle feci e quello del sangue li ritengo per la mia opinione inappropriati perché non ti dicono dove stanno guardando non ti dicono dove l'hanno trovato ok ok detto questo ti stoppo perché necessita giustamente come dice la brava imm ma dice si è meglio fare un'altra puntata su l'helicobacter che è solo dedicata a quello dove anche in quella puntata leggeremo le domande che magari saranno presenti mille domande sono presenti sull'helicobacter e magari continuate quando pubblicherò magari la data l'evento faremo l'evento di nuovo magari scrivete lì le domande non ecco la faremo la faremo precisa precisa proprio solo sull'helicobacter quindi non andremo a spaziare su come abbiamo fatto oggi perché oggi la potenza no perché sai la prossima volta quando parliamo dell'helicobacter dobbiamo smontare la favoletta del miele di manuca e parlare della corteccia di cannella sì ok quindi lasciamo un po' la suspans su questo allora io concludo innanzitutto ringrazendo Gabriele per la sua enorme disponibilità perché ovviamente ad ogni chiamata risponde all'appello partecipare con quattro minuti di ritardo ho fatto un ritardo di quattro minuti però diciamo fondamentalmente abbiamo iniziato precisi precisi anche oggi ma al di là di tutto lo ringrazio per la chiarezza ma anche per la collaborazione nel senso che poi queste puntate come ho sempre detto oggi servono soprattutto e l'ho ripetuto anche Enrico che saluto e che ovviamente l'abbiamo salutato più volte anche oggi come la dottoressa Accardi cioè abbiamo un network di collaborazione perché il tuttologo il tuttologo deve cercare non ha senso oggi avere la visione olistica sì ma il tuttologo che si occupa di tutto secondo me non è la cosa migliore ma se io ho problematiche vedo persone con problematiche che non io non riesco più di tanto a gestire io chiamo Gabriele o do il numero della segretaria e ovviamente poi parleremo io e lui sui casi come faremo adesso discuteremo di un caso mentre chiudiamo la destra discuteremo di un caso di una paziente vista insieme perché poi ci confrontiamo e questa è la cosa migliore da fare perché solamente se uno si confronta e cerca di dire beh tu cosa ne pensi tu cosa fai tu cosa non fai allora a questo punto forse stiamo facendo bene il nostro lavoro ecco questo è l'insegnamento che mi porto dietro mi porto dietro dalla medicina di segnale ma credo che si sposa bene con la medicina funzionale e con tutto e con tutto il resto Gabriele se vuoi concludere tu salutare adesso un po' le persone stanno abbassando ma abbiamo avuto quasi 700 persone oggi che ti hanno seguito voglio stare i ringraziamenti che ti hanno fatto il primo ringraziamento va a a Francesco Garritano che ha così a cuore i suoi pazienti che ha coinvolto me e gli altri colleghi gratuitamente per queste piacevoli chiacchierate un grandissimo grazie va a voi che mi avete sopportato per un'ora e mezzo perché essendo un temibile palermitano e chiaccherone tu mi fai una domanda io rispondo la mia risposta dura mezz'ora e grazie perché nel momento in cui mi ponete le domande mi obbligate a trovare una metafora semplice leggera è comprensibile per cui sfidandomi mi aiutate ad essere migliore rispetto alle risposte migliore di come ero prima di questa diretta ok dopo questa massima che la possiamo pure registrare rivedere perché molti mi chiedono se possono rivedere la puntata certo la puntata rimarrà sia sulla pagina verrà condivisa sulla pagina di Gabriele rimarrà su YouTube quindi siamo arrivati a 1 ora e 42 quindi potete vedere abbastanza materiale perché abbiamo toccato veramente tante cose non abbiamo toccato solo l'helicobacter che invece dedicheremo un'altra una puntata a sé io vi ringrazio tutti vi auguro una buona serata mercoledì vi ricordo la puntata con Giorgio Terziani in cui l'ospite sarà Walter Nudo ci sarà Walter Nudo come ospite che poi vedremo cosa ci racconterà venerdì Guidoni reumatologo e Giacona sabato che ci parlerà di un altro aspetto molto importante poi vi poi guarderete piano piano perché posterò le locandine l'ultima cosa volevo ricordarvi è che il corso della tiroide per chi si è iscritto domenica domenica cioè ieri non è andato in onda questo corso su Zoom per un malefico aggiornamento di Zoom che è stato fatto e quindi ha fatto saltare il collegamento quindi però lo faremo domenica prossima alle 16 quindi non è saltato per chi si è iscritto ovviamente si farà tranquillamente e soprattutto c'è ancora la possibilità di partecipare quindi per chi non ha avuto il tempo di farlo io vi saluto vi ringrazio e vi auguro una buona serata ciao a tutti ciao ciao Grazie.